Allora c'è un signore che entra al bar, no? Però era strano questo signore, praticamente aveva le mani così, no? Entra al bar, 4-4, arriva lì al banco, si guarda il barista e gli fa un caffè. Il barista solo guarda e fa, ma quello con queste mani così, ma come fa a morire il caffè? Gli metto il caffè lì sopra e questo signore, mi scusi, non è che mi darebbe una mano? Ah, il barista dice, porca miseria, mi piace il caffè, lo metto lì, piano piano, piano piano, lo fa a beve. Che mi darebbe anche un cornetto a fare quelle mani qua, no? E il barista fa, sì sì, lo fa a pezzettini e lo metto lì, no? Che mi aiuta pure con i pezzettini, gli fa, sempre con le mani così queste. Il barista, porca miseria, gli mette questi pezzettini in bocca, gli uccelletti. Questo finisce a masticare e gli fa, scusi, senta, c'è un bagno? Allora, quello gli fa, sì, il bagno c'è, ma come fa? Eh, non è che mi accompagnerebbe un attimo, guarda, è proprio urgente. Il barista, vabbè, guarda questo come sta, fammelo accompagnare, no? A questo che mani sta lì al bar, al bagno, gli fa, scusi, mi darebbe una mano? E il barista, vabbè, devi abbassare la cosa, tira fuori questo, eh, grazie, grazie. Il barista, dopo tutta sta cosa, se li mette in posa, se li compone, gli fa, ma scusi, ma visto che abbiamo condiviso tutta sta intimità, ma lei, ma che c'ha a ste mani? Eh, sa qui, i mattini che ti va a DeFank proprio un cazzo? Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.